L'offerta formativa dell'Istituto Superiore Don Michele Arena comprende i seguenti indirizzi amministrazioni, finanze e marketing, sistemi informativi aziendali, turismo, tecnico-industriale in automazione. Nautico, vi aspettiamo. Ci troviamo nella località San Calogero di Sciacca, quella che leggete è una scritta su un cartello che è stato collocato da residenti in questa zona, c'è scritto sei un incivile, questa non è una discarica. Purtroppo però c'è chi continua ad abbandonare qui i rifiuti e vediamo rifiuti di ogni genere, oltre a rifiuti solido urbani ci sono anche tanti ingombranti, una scala, pezzi di auto, insomma c'è proprio di tutto. Ma la stranezza di quanto accade in Contrada San Calogero a Sciacca è che è poco più in alto, cioè appena un paio di chilometri più in alto nella zona più vicina alla Basilica, grazie all'intervento tempestivo da parte dei residenti che sono un'ottantina che sorvegliano il territorio. La situazione è completamente cambiata rispetto ai mesi scorsi quando anche quella zona era diventata una discarica. Ma qui più verso la località Isabella purtroppo la situazione rimane precaria. Ne parliamo con Cosimo Falco che è uno dei residenti della zona e che ha collocato questo cartello. Non c'è proprio alcuna possibilità di fare desistere questa gente? La possibilità c'è anche perché questa situazione è quasi aggravata ora per il Natale in quanto qualcuno ha pensato di fare qualche festicciola e quindi che cosa è successo? Non avendo modo e possibilità di buttare la spazzatura dove ci veniva, ha pensato di buttarla qua. Infatti mi hanno chiamato qualcuno e dice vedi che la situazione sta di nuovo peggiorando. Però dico alla fine noi là sopra come dicevi tu nel momento in cui ci siamo riuniti e stiamo formando il comitato che cosa è successo? Che queste 100 persone si sono adeguate anche perché il comune ci ha fornito dico il giusto con l'ecobus che viene dalle 6 e mezza alle ore e quindi praticamente nessuno più si è lamentato. Però ora la situazione qua non è che da ora, la situazione qua ad agosto che giustamente poi il comune se non ha fatto la sua parte di pulirlo anche perché dico è sprecato pulirlo anche perché se l'avrebbero pulito ora si sarebbe di nuovo di nuovo sporcato anche perché le casse comunali con queste situazioni hanno dovuto uscire 400 mila euro anche perché io mi sono informato con il comune che le cose straordinarie sono 400 mila euro. Ora quindi quando il cittadino che si vede arrivare la bolletta della Tari aumentata dice ma che è successo? È successo che noi siamo incivili e quindi che succede? Che ti arriva la Tari aumento, ma l'aumento l'hai creato tu. Ecco qui l'unica soluzione allora è la collocazione delle telecamere perché questa zona è adibita a discarica già da tempo e come diceva lei la situazione si è aggravata durante il periodo delle festività natalizie. Le telecamere le ho richieste già nel periodo di agosto quando c'era tutto quel caos in tutta la città però dico alla fine non ho visto niente anche perché se qualcuno avrebbe preso la multa come dicono ma io non ho visto in giro tanta gente che dice mi hanno fatto la multa, mi hanno fatto la multa. Mettete le telecamere e poi vediamo se qualcuno può fare quello che ha fatto. Ma non potreste fare voi un controllo esteso anche a questa zona coinvolgendo anche altra gente perché nella zona come dicevamo precedentemente più vicina al santuario la situazione è cambiata completamente. La situazione vicina al santuario è cambiata allo spazio di traffico, nella zona della Vineda la situazione è peggiorata o quantomeno è rimasta stabile perché come ti ripeto noi abbiamo un gruppo di 100 persone che ci comunichiamo tutti i giorni e da due mesi non c'è nessuno che si è lamentato perché si è messo si è adeguato nella maniera che l'ecobus e quindi il problema non c'è più. Ora questa situazione che c'è qua che c'è stata da sempre però nel periodo di Natale si è aggravata perché ci sono degli incivili. Quando l'ha detto il sindaco ci sono gli incivili io mi sono fatto un attimino allora però ora lo posso dire lo affermo che ci sono degli incivili e gli incivili non è che si possono combattere tutti i giorni ci vogliono delle telecamere ho capito ma le telecamere chi le deve mettere non è che le posso mettere io anche perché ci voglio l'autorizzazione che non penso che me la daranno facilmente anche se uno vuole uscire 100 euro o 1000 euro non è che ti fanno mettere nel telecamere.